E oggi è la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, un bene sempre più raro in Puglia a giudicare dai dati elaborati dall'Inail e diffusi dalla CISL. Nei primi due mesi dell'anno nella nostra regione si sono registrati 4.223 infortuni, più di 2.000 al mese in netto aumento rispetto all'anno scorso, 7 quelli mortali, il maggior numero di denunce nel settore della sanità e dell'assistenza sociale. La buona notizia invece viene della CGA di Mestre, secondo cui proprio la Puglia e la regione in Italia, che dal 2019, ovvero dal periodo prepandemico ad oggi, ha avuto il maggior incremento di posti di lavoro, più 6,3%.